Essere un italiano all'estero, adesso, è più facile che mai con Fastit. Non mi è ancora arrivata la scheda elettorale per queste elezioni, non capisco il motivo. Ma è forse perché non ti sei ancora sentito all'Aire. Aire? Cos'è l'Aire? Non sai cos'è l'Aire. Aspetta che ti faccio vedere. Salta la fila e registrati all'Aire, online, ovunque tu sia. Registrarsi è richiesto a tutti i cittadini italiani che vivono all'estero da più di 12 mesi. E con il portale Fastit è semplicissimo comunicare il cambio di indirizzo. L'aggiornare è semplice e veloce, ovunque tu sia, in qualsiasi momento. Registrarti all'Aire consentirà all'Ufficio Consolare di intervenire più facilmente se hai bisogno di assistenza. Semplifica il rilascio di un passaporto e di altri documenti, che tu stia per sposarti o stia registrando una nascita. Ti dà anche la possibilità di votare. Il registro Aire ti permette quindi di notificare i cambiamenti della tua vita. Registrati ad Aire, con Fastit, adesso. Sembra molto facile come procedura. Molto facile. Ciao ragazzi, come va? Ehi, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!